Abbiamo fatto un'irruzione nella sala prove della nostra specialissima tribute band Enea Canta Mango e noi siamo proprio con il cantante che si chiama Enea il gruppo nasce in qualche modo con un riferimento proprio specifico a te perché la tua voce è veramente simile a quella di Mango ma come mai questa scelta a parte con la tua vocalità che è praticamente identica? Diciamo che comunque abbiamo, ho cercato, io ho conosciuto Pino veramente quando era in vita e la cosa è nata due anni dopo la sua repartita e all'inizio ero un po' solo, diciamo che ho fatto qualcosina fuori in Basilicata quindi nella sua zona, con le basi poi grazie alla richiesta che c'è stata di questo tributo fatta in onore di Pino Mango e sono venuto a conoscenza di questi bravissimi, sicilissimi e grandi amici e abbiamo messo su questa formazione per regalare ancora ai fan e non solo di Pino Mango delle emozioni, facendo un omaggio Ma regalerete delle emozioni bellissime a tutto il pubblico di Teleton che vi potrà ascoltare, lo vogliamo ricordare il 27 aprile in Piazza Università sarà la vostra prima volta proprio con noi del coordinamento di Catania Sì, ma tra l'altro sarà anche la nostra prima piazza diciamo inauguriamo questo tributo, questo gruppo nella nostra terra, quindi nella nostra città a me parlo per me che sono catanese però inauguriamo in Piazza Università che per noi è un onore far parte soprattutto di Teleton e fare beneficenza come faceva il buon Pino Mango E noi lo vogliamo ricordare l'appuntamento importantissimo di domenica giorno 28 al costo di... 5 euro Cosa si può fare? Ritirare la nostra magliettina indossarla insieme poi allo zainetto ai tanti gadget che troverete all'interno e partecipare a questa camminata anche in bici Ci sono anche in bici, è una bellissima iniziativa comunque Voi ci sarete? Noi ci saremo, come no, in bici E noi diciamo sempre Io sto con Teleton Anche noi, anche noi E lo dovete dire Noi stiamo con Teleton Noi stiamo con Teleton, non ci mancherebbe Grazie, ciao a tutti Ciao